Alessandro Zanardi, detto Alex, è un pilota automobilistico e paraciclista italiano. Nell'automobilismo si è laureato campione kart nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Il conto alla rovescia per l'inizio dei giochi paralimpici è ormai iniziato. Manca sempre meno all'inizio della competizione più attesa nel mondo dello sport. E i tifosi non vedono l'ora di poter vedere i propri beniamini all'azione. Tra gli atleti più attesi di questa edizione ci sono ovviamente quelli della squadra paralimpica di ciclismo, presentati in questi giorni dal presidente del CIP Luca Pancalli. In vista di Parigi 2024, il noto dirigente sportivo ha deciso di motivare ancora di più i suoi ragazzi ricordando, in un momento particolarmente importante, le imprese di Zanardi, che al movimento paralimpico ha regalato grandissimi soddisfazioni. E le sue parole hanno fatto breccia nel cuore di tutti, portando i tifosi alla commozione. Il nostro miglior risultato è stato quello di Rio, con cinque ori e cinque argenti, ha raccontato Pancalli, come riferito dall'Ansa. Aggiungendo. In quella spedizione c'era Alex. E anche per questo è un'edizione cui siamo particolarmente legati. Non per i numeri, ma per il fatto che sia stato lui uno straordinario protagonista.